La media 1 Mastire, Girone C-Nazionale, tra Benevento e HC Banca Popolare di Conti, tra poco scenderanno il campo le squadre per l'imperamento, con il gruppo scure, Marcia Marco, con il numero 3 De Vigo Sergio, con il numero 4 Onopole Alessio, con il numero 6 D'Angelo Andrea, con il numero 10 De Alzea Cristiane, con il numero 11 Destran Claudio, con il numero 14 Tassiello e Marco, con il numero 15 Deji Di Spacetto, con il numero 10 Schivani Manas, con il numero 22 De Ficcio Magilla, con il numero 39 De Luca Antonio, con il numero 8 Cristoforo Alessio, con il numero 29 Di Spacetto, un numero 90ernis, con il numero 19 De Sceno Dennis, in Caritano con il numero 8 Ogontro Giuliano, allevatore Ficcio Magliù Urgo, e mancaci con il numero 22 nel numero nel numero 22 nel numero 26 il numero dal luca con il numero 18 alessandro giunta con il numero 8 Marco Deolanti con il numero 69 con il numero e il primo con il numero 20 suvette Anneschi su mio numero 9 alto lì Anglia mi con il Ooh dice Lugo su Dave un bel rientro vincente con i due da luce Daniele Luffini con i due da faccio Daniele Pinto con i due da sette Duca Sanchez attendiamo il nuovo soccatore dell'ARCG Mario Popolari Duca Sanchez con il numero 80 il capitano Giovanni Caceli allegatore da Ciclo e da Cicli 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.